In vista dell'arrivo della stagione invernale il comune di Pescara ha iniziato a lavorare sul piano freddo 2019-2020 sull'Housing First. A collaborare con l'amministrazione comunale ci saranno diverse associazioni e anche singoli cittadini. Questa mattina a Palazzo di Città si è tenuta una prima riunione operativa preliminare a cui hanno partecipato l'assessore all'ascolto del disagio sociale Nicoletta Dinisio e l'assessore al patrimonio Patrizia Martelli. Proprio questa mattina avremo una riunione con l'associazione On The Road. I locali sono stati presi e abbiamo fatto un sovraluogo con le associazioni. A giorni vi potremmo dire sicuramente tutto il calendario e come verrà effettuato questo piano freddo che sicuramente verrà fatto nei migliori dei modi. In collaborazione con l'assessore Martelli e con l'assessore Sulpizio, quindi siamo in tre una forza unica per fare questo progetto. Come ben sapete i senza fissa di mora ne sono tanti, quindi un numero preciso non glielo sappiamo dire, però comunque ci stiamo organizzando al meglio.